Tu che sei grande amico di Arcuri? Lanciati nel business delle scrivanie. Hai sentito questa storia delle scrivanie? Sì, ma come faccio? Troppo. 3 milioni di scrivanie a prezzo medio 50 euro. È un macello quello che sta succedendo, ti rendi conto? 30 milioni di mascherine al giorno per le scuole, tra studenti, corpo insegnante, autisti di scorta. Non riesce, non riesce ad inserirti in questo business qua con Arcuri? Quello delle mascherine stiamo... quello che non fornisce Luxottica e Fiat, sai che gli hanno fatto, che sono grandi produttori, no? Se non ce la fanno, subentriamo noi.